Esultano e ne hanno tutto il diritto i tifosi della Triestina per la vittoria di ieri sera al Bottecchia contro i Pordenone, vittoria che consegna ai Giuliani il primato in classifica. Malomo e Procaccio ci hanno messo la firma, tutta la squadra però ha stretto i denti e ci ha messo sudore e muscoli per sopraffare i ramarri. Quando scocca il quarto minuto la Triestina fa subito capire che non è arrivata in Friuli per tirare su il Fortino, anzi i ragazzi di Pavanel sono aggressivi e sbloccano la gara con la zucata di Malomo da calcio d'angolo. Sul lato opposto è Valentini a difendere il vantaggio per i suoi dopo una conclusione ravvicinata dell'avversario. Al decimo si rivedono i neroverdi che arrivano al diagonale molto difficile, tanto da consegnare la palla alla rimessa dal fondo per i Giuliani. Superato il quarto d'ora, brivido per gli ospiti su colpo a giro dalla distanza, la palla sfiora l'incrocio dei pali. Poco prima del ventesimo Burrai calcia benissimo in mezzo, De Agostini risponde con la stessa arma utilizzata dall'Unione, il colpo di testa, per ristabilire la parità. La rete galvanizza i locali che al ventisettesimo prendono la traversa con Candellone, sempre sugli sviluppi di un corner. Pochi secondi dopo Berrettoni prova il gol della domenica, ma è la tristina che a ridosso del doppio fischio colpisce sul fianco con Procaccio, cinico nel cogliere una palla vagante e spalarla in porta trafiggendo il portiere del Pordenone. Gol frutto anche del disimpegno sbagliato della retroguardia neroverde. Il secondo tempo si apre con i padroni di casa subito in attacco. Germinale colpisce da vicino, ma è Valentini a salvare ancora il parziale. I friulani provano il forcing in più occasioni, dalla distanza, da palla alta e da calcio piazzato. Poi un'azione contestata a settantesimo con la richiesta di un fallo di mani in area, ma l'arbitro non concede il penalty per i pordenonesi e lascia proseguire. La tristina è costretta a subire in questa fase, ma riesce a farlo in modo non troppo doloroso grazie anche a un Valentini molto attento, fino al triplice fischio che consegna alla tristina una preziosissima vittoria e un momentaneo primo posto in classifica. A fine gara si registrano anche momenti di tensione, anticipati negli ultimi minuti di gioco da episodi di nervosismo in campo. A match concluso infatti si è generata una mischia dove un gruppo di giocatori sono entrati in contatto con uno dei Giuliani a terra, probabilmente colpito al volto.